Sottotitoli partiti, ed eccoli, in testa urlo, secondo pischetta. Attenzione, urlo ha avuto un inconveniente, è uscita la catena, ora sta cercando di risolvere il problema, intanto pischetta ne approfitta per balzare in testa, l'abbiamo visto, commentato anche, anche commentato, vai raggiungilo, vai raggiungilo, urlo sorpreso rientra in gara, è incredibile, ed eccoli di nuovo, urlo ormai con il mezzo in pessime condizioni, e non si sa se riuscirà a finire la gara, però ci prova, ci riprova, alla seconda partenza, ancora urlo, indomito, cerchi il recupero, questa volta non ce la fa, ed ecco il ritorno, è un rompente troppo alto all'esterno, non ce la fa, troppo lento, 2 a 0 per pischetta, ultima, ultimo tentativo per urlo di riprendersi il titolo, ed eccoli ancora partiti, urlo con veri problemi alla sua M1!